Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora ci ha lasciati Gigi Riva. Gigi Riva non è stato solo un grandissimo calciatore italiano, sicuramente l'attaccante più forte che ha avuto l'Italia, ma è stato soprattutto una grande persona, una persona dalla storia incredibile, lui uomo del nord di Leggiuno, in provincia di Varese, che da giovane ragazzo, tra l'altro in un momento tragico per lui dopo aver perso prima il padre e poi la madre, si trasferì in Sardegna. Ci si poteva aspettare che un giovane che già faceva intravedere grande talento sarebbe rimasto lì giusto per fare esperienza a Cagliari e poi sarebbe andato a giocare in una grande squadra come la Juventus, l'Inter, il Milan e altre. E invece Riva ha deciso di passarci tutta la vita fino a ieri quando appunto ci ha lasciato all'età di 79 anni. Voglio raccontare questa storia anche perché è una storia che mi tocca e mi riguarda personalmente come persona. Ora io sono nato all'estero, in Svizzera, precisamente nel 1958 e quando ero ragazzino in Svizzera, già dal 1966, 67, 68, sulla bocca di tutti c'era Gigi Riva e il Cagliari. E voi sapete come sono i bambini, in questi casi è facile innamorarsi di quella squadra e tifare per quella squadra e averla nel cuore. La prima squadra che così ti rimane nel cuore non la scordi mai è così come il primo amore, no? E la stessa cosa riguarda il calcio, riguarda l'amore che hai per dei colori che non ho mai dimenticato. Ma Gigi Riva soprattutto è attuale in questi nostri giorni, proprio anche per noi, no? Dico per noi che abbiamo certe idee, abbiamo un certo modo di pensare, ci confrontiamo su questo canale. Ecco, Gigi Riva è la classica persona che piace a noi, valori che vorremmo ritrovare e che abbiamo totalmente perso nel nostro paese, come quello ad esempio che non sono i soldi, il potere che fanno felici o dovrebbero fare felici, ma che la vita è altro, la vita è solidarietà, la vita è amore, la vita è correttezza, tutti valori che erano impersonati da Gigi Riva. Era amato ovunque, no? Io so di tifosi romanisti che in quegli anni compravano la maglietta di Gigi Riva e ovunque dovesse andare Gigi Riva era applaudito. Io ricordo che quando da ragazzino tornai in Italia, avevo 14 anni, nel 1972 mi era capitato di andare a vedere Inter Cagliari, Milan Cagliari. Ecco, quando Gigi Riva entrava in campo non c'erano fischi per lui come per altri attaccanti, ma c'erano solamente applausi e grande riconoscimento al suo modo di essere come uomo. Ecco, il sogno sarebbe di ritrovare quel tipo di uomini alla guida del paese, ad esempio, no? E invece sappiamo che tutto questo ormai è svanito, che noi abbiamo politici impresentabili, abbiamo gente che abbiamo giustamente, continuiamo a criticare nel nostro paese come Ferragni, come Fedez, abbiamo, e lo devo dire a malincuore, personaggi come l'ex CT Mancini, che per soldi, solamente per soldi, se ne è andato in Arabia Saudita, giusto per fare un esempio, ma in generale non ci sono più quei giocatori che non guardano al denaro, ma guardano ad altro, guardano all'amore per una terra, perché Gigi Riva era proprio diventato, era sardo, era uno di loro, no? L'amore che aveva per questa terra, che aveva per questa gente, ecco questi grandi valori. Gigi Riva ci ha lasciato questo, l'insegnamento dei valori, al di là di essere stato un grande, grandissimo calciatore, e io oggi ho voluto ricordarlo soprattutto per questo. Vi lascio con questo ricordo che mi ha toccato personalmente, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.